Ciao Francesco, a domani, buonanotte, grazie Romina Minadeo, Alberto Santi, Marilena Albergo, ciao ragazzi Ciao a domani, grazie, grazie a Romina, grazie a Marilena Romina va di fretta, chiudola, Romina, non è che devi andare, che devi prendere il treno, domani devi andare a mare Perché che ho fatto? Ho chiuso l'agendina magica Sì, proprio con quell'arroganza subito chiudo, me ne devo andare, perché devo scappare, aspetta che ce lo sai che è Va bene, adesso lo sarò qui a guardarlo, tranquillo Tu secondo me tra un'ora già sei a mare, lascia stare Ciao